Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite Gabriele, un artista. A questo punto, a Gabriele, la prima cosa che chiediamo è se dovessi descrivere chi è Gabriele, per chi ti ascolta. Se dovessi descrivere chi è Gabriele, direi che Gabriele è un uomo, che prima era un ragazzino con tanti sogni, con tanti obiettivi nella vita, che ha fatto tanta strada, che ha lasciato la Sicilia a un certo punto, perché sono siciliano, e che è arrivato a Parigi, quindi in Francia, e che ha fatto tanto, ha scoperto tante cose nuove sul mondo e anche su se stesso, a livello artistico e soprattutto umano. E che Gabriele è un cantante, un artista a cui piace tanto fare spettacolo. E a questo punto, intanto parliamo del nuovo brano. Come nasce questo nuovo brano? Da cosa è tratto ispirazione? Questo nuovo brano, che sarebbe Perdono, che non è poi un nuovo brano per chi conosce l'originale di Tiziano Ferro, uscita nel 2001. È una cover che è nata per il piacere di voler interpretare qualcosa che significasse qualcosa per Gabriele adesso adulto e per Gabriele adolescente. Quindi è nata così, e su volte ne dico di più, col fatto che comunque questa versione di Perdono, che è una versione metà in francese e metà in italiano, quindi mi riporta proprio all'italiano, alle mie origini in Sicilia, quando ho scoperto questo cantante bravissimo, che è Tiziano Ferro, e poi il francese, che adesso è la mia seconda lingua e anche la mia terra adottiva, diciamo, che mi ha adottato. E come crei le tue canzoni? Cosa tra ispirazione, ma soprattutto come nascono le tue canzoni? Le mie canzoni, io ne ho scritte tante canzoni da quando avevo 16 anni, come ho sempre scritto, non le ho mai diffuse, non le ho mai rese pubbliche, giustamente per il fatto che pubblicare qualcosa di personale diventa in qualche modo anche una messa a nudo dell'artista, quindi io per tanto tempo ho interpretato delle canzoni che mi sono state scritte, adesso ho interpretato quella di Tiziano Ferro, che è stata scritta per lui, ma che ho preso tanto piacere, e ovviamente questo Perdono è pure una svolta verso il volere far conoscere le canzoni giustamente che ho scritto e che sono ispirate soprattutto dal mio percorso molto particolare, molto vario, e direi che il messaggio che ispira spesso le mie canzoni è un messaggio di speranza, che sia nella vita, o che sia nell'amore, o che sia nel relazionarsi con le altre persone, quindi queste sono spesso le mie fonti di ispirazione. E l'emozione che provi quando ti sali sul palco, la sensazione quando ti si apre la quarta platea, c'hai delle persone davanti che ti ascoltano e che inizialmente sono in silenzio, ma poi si emozionano, cantano, oppure stanno lì, ti guardano, però hanno quello sguardo, come dire, canticchiano dentro, e tu quale sensazione provi? Ma la sensazione di quando vedi il pubblico che comunque ti ascolta e che con entusiasmo, con emozione, che sia cantando o ballando, o come dici tu anche con lo sguardo, è semplicemente un'emozione che riempie l'animo per me dell'artista, perché l'artista nasce per quello alla fine, penso per comunicare la sua propria passione, per comunicare quello che è dentro, di fare uno scambio con quelli che provano la stessa cosa, quindi per quello sì, sì, è una grande emozione. E invece quando scendi al palco, poi vedi queste persone che si avvicinano, alcuni ti fanno delle domande, prima cosa tanto, ti hanno fatto domande particolari che poi ti hanno lasciato quella emozione, oppure hai visto che ti volevano fare delle domande, ma in realtà avevano non solo fatto l'emozione, la titubanza, però tu hai visto quel viso, che ti volevano fare quella domanda, che tu gli hai dato una risposta, che forse loro hanno sorriso, si sono rimasti contenti, nonostante non abbiano fatto la domanda. Allora sì, quello che succede quando finisci in uno spettacolo, quando finisci in un concerto, le persone che sono lì, che ti aspettano, e che comunque sono lì, e che magari solo per dirti bravo, grazie, e anche dire sì, sono stato lì, sono stato lì, ti ho seguito, ti ho sostenuto durante il concerto, spero che mi hai visto, è questo quello che le persone spesso vogliono dire. È là dove spesso anticipo io anche la timidezza che magari può essere di alcune persone, è là dove dico magari ma ci facciamo una foto, che ne pensi? E le persone subito si illuminano perché magari non osavano direttamente chiederlo, perché è sempre delicato, perché magari non vogliono far perdere tempo, perché sono troppo timidi, omozionati, quindi sì, questo tipo di situazioni può avvenire. Le tue canzoni come nascono? Prima i testi, prima le musica, oppure nascono insieme? La maggior parte delle volte, quindi il 90% delle volte, io scrivo assieme il testo con la musica, sono due cose che camminano assieme, che si costruiscono e si sposano passo dopo passo, e invece mi è anche capitato magari di di dover mettere una, di trovare la musica, di trovare la melodia e il testo su una musica, quindi su una linea di musicale già stata scritta, quindi questo è un altro modo di proseguire, che non è quello più semplice per me, quello più naturale, però la maggior parte faccio due allo stesso tempo, però tutto è possibile, perché comunque anche avere delle piccole sfide, delle piccole cose da fare diverse dal solito, quello è anche pane per i miei denti. tu oggi, oggi ti trovi in Portogallo, girare il mondo, girare l'Europa, come è vista la musica, soprattutto, come è vissuta la musica all'estero, rispetto all'Italia, secondo te? Allora, io ti posso dire come è vissuta in Francia, soprattutto, perché in Portogallo ci sono in vacanza, quindi non saprei, non saprei dirti di più, in Francia è vissuta in modo molto molto controllato, direi, perché comunque le radio, che siano le radio e le televisioni, devono rispettare un certo, una certa percentuale di musica, per esempio francese, una certa percentuale di musica inglese, una certa spagnola, e quindi rimane poco spazio magari per le altre, specialmente anche l'italiano, e non entra tanto nel mercato francese, allora che nelle altri posti ho l'impressione che si accetta un po' tutto quello che viene, non c'è qualcosa di organizzato, preciso, in cui si deve fare tanto di quello, tanto di quello, tanto di quello, si ascolta quello che si vuole. E intanto parliamo di progetti futuri, quali sono i progetti futuri a breve tempo, live, nuovi singoli, Sì, i progetti futuri arrivano arrivano prossimamente verso ottobre, normalmente un nuovo singolo, un nuovo singolo che sarà in due lingue, quindi questo è un inedito scritto da me, uno in italiano con una parte francese e un altro francese con una parte italiana, quindi è la stessa canzone tradotta nelle due lingue e con un tema diciamo una la diciamo la la bellezza della natura e la differenza che la bellezza della differenza che ci propone la natura. secondo te i talent sia in Italia ma anche in Francia nascono per far crescere i gioi oppure servono soltanto per avere l'artista questa usaggetta e poi dopo una due stagioni viene abbandonata a sé. Guarda, su questo non saprei saprei dirti ce n'è stato io per i talent comunque ci sono comunque degli artisti che sono usciti dai talent che comunque hanno fatto la loro strada grazie ai talent però la maggior parte delle volte i talent veicolano un messaggio che magari può essere interpretato in maniera sbagliata soprattutto dai giovani da quelli che che dicono voglio diventare cantante che pensano che per diventare cantante basti fare un talent e quindi solo cantare bene basti allora che diventare cantante c'è tanto tanto lavoro da fare c'è tanta determinazione c'è tanto lavoro dietro la voce quindi non c'è soltanto il fatto di cantare bene c'è la serietà c'è essere professionali c'è essere determinati gentili educati cioè ci vuole un po' di tutto perché è come un mestiere come tutti gli altri c'è un mestiere certo artistico però per fare bene un mestiere devi essere professionale e comunque competente e avere anche una personalità che sia che sia comunque umile direi ci sono artisti in cui ti sei ispirato e che ti hanno dato anche il modo di crescere artisticamente? sì sì ovviamente ovviamente Tiziano Ferro quello quello nominare per forza perché sì mi ha accompagnato tutta l'adolescenza l'ho seguito l'ho seguito per tanto tanto tempo anche Alex Britti è uno degli artisti che mi ha tanto accompagnato Alex Baroni pure in passato e poi tanti tanti altri cantanti come come Laura Postini Elisa Giorgia che mi hanno anche ispirato per la loro bravura e la loro diciamo longevità artistica perché continuano tuttora a essere a essere molto forti e se dovessi fare un duetto con chi lo faresti? allora di Cotiziano Ferro sembro così perché perché quello era il mio idolo e anche se adesso non ho più l'età di avere un idolo sarebbe un grande piacere di condividere il palco con lui o una canzone o uno studio quello anche un caffè e a questo punto intanto noi ti ringraziamo perché abbiamo visto abbiamo conosciuto un po' l'artista e soprattutto che consiglio daresti a un ragazzo un giovane che vuole intraprendere a fare musica? il consiglio che do è inerente a quello che dicevo poco fa che se vuoi fare musica se vuoi fare questo mestiere non pensare che che arrivi soltanto scantando bisogna avere pazienza bisogna avere determinazione bisogna essere sempre educati e comunque cordiali con quelli del mestiere che sono su altri su altri altri settori che può essere magari un giornalista che può essere un conduttore radiofonico può essere un ingegnere del suono può essere quello che fa le luci cioè bisogna veramente essere delle persone umane e fare questo con il cuore e non focalizzarsi solo su se stessi e a questo punto vabbè allora perfetto la domanda che nessuno ti fa è sicuramente la più complessa perché hai deciso di fare musica visto che in questo periodo gli artisti stanno soffrendo un po' del fatto che c'è stata una pandemia poi poi le varie piattaforme lo streaming e stanno sparando anche cd anche se un po' è ritornato in auge il vinile e la domanda perché fai musica? la risposta per me è abbastanza semplice che il fatto che non 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 si sceglie di fare questo di prendere questa strada ma la musica ti sceglie e poi non puoi fare più almeno a meno di lei e sei e sei obbligato a seguirla ma con piacere per tutta la vita comunque se è quello se è quello che cioè io non ho mai la musica non mi ha mai lasciato io non l'ho mai lasciata e penso che che ci sia una pandemia che ci sia qualsiasi cosa penso che non la potrò lasciare suoni strumenti sì sono la chitarra sì 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 sono la chitarra da quando ero ragazzino mio padre mi ha insegnato i primi accordi poi poi suonavo anche come in chiesa con il coro e poi niente ho continuato a suonare nei villaggi turistici facevo chitarra bar e poi ho imparato anche un po' di piano solo per accompagnarmi magari per capire anche le note gli accordi per la composizione a volte può essere anche utile c'è qualche chitarrista a questo punto visto che suoni la chitarra che che ti piace o che ti piacerebbe che suonasse con te eh eh qua sì vabbè se vogliamo andare veramente a a alti andiamo a Sant'Ana ovviamente è bravissimo e se no qualcuno cioè chitarrista per me migliore che ho seguito da da piccolo cioè per me Alex Britti oltre a essere un bravissimo cantante è un chitarrista veramente eccezionale quindi anche con lui un duetto non lo rifiuterei ricordiamo dove poterti raggiungere tutti i social tutti Spotify YouTube Facebook allora più semplice basta andare per esempio o su YouTube scrivere Gabriele perdono per trovare il video nella descrizione troverete tutti i link di tutti i social il mio sito ufficiale www.gabrielemusic.com e poi sui social Gabriele chanteur ma se non avete fatto francese lo scriverete male sicuramente io saluto saluto a tutti che ci seguono e quindi è stato un grande piacere e spero che continuate a seguire la mia musica e a seguirmi nella mia strada di cantante studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di Pietro di Pietro i i i Grazie a tutti.